Salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di Pandora Rivista. Abbiamo qui oggi con noi Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes, ha lavorato per le istituzioni come consulente dirigente per la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Università e della Ricerca. Ha scritto numerose opere, Le Potenze del Capitalismo Politico per la nave di Teseo, I Cancelli del Cielo per Lewis University Press e recentemente Il Dominio del XXI secolo per Feltrinelli, che è proprio il libro da cui partiremo in questa conversazione. Parleremo di catene del valore globali, dei chip e dei semiconduttori e del loro ruolo strategico e dell'importanza di tutto questo all'interno della competizione globale tra sistemi economico-istituzionali differenti. Alessandro Aresu è peraltro un collaboratore di lunga data di Pandora Rivista, ha scritto numerosi articoli per la rivista Cartacea Online, è stato ospite in numerose occasioni del Festival Dialoghi di Pandora Rivista e quindi siamo molto lieti di averlo qui con noi come nostro ospite. E ora possiamo iniziare dopo la sigla. Ecco intanto benvenuto Alessandro, grazie di essere qui. Sono lieto di essere qui con voi, grazie mille Giacomo. Io partirei proprio appunto dal tuo ultimo libro chiedendoti quali sono le ragioni che ti hanno portato a scriverlo e come questo ultimo lavoro tuo si lega anche alla tua ricerca precedente, in particolare ai concetti che hai messo al centro delle potenze del capitalismo politico. Grazie per la domanda. Direi che negli ultimi 5-6 anni in particolare io ho cercato di portare avanti un itinerario legato all'approfondimento di alcuni temi che stanno al centro tra le questioni che riguardano i rapporti tra l'economia e la politica attraverso la lente dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale in particolare. In fondo una delle frasi emblematiche su cui cerco di portare l'attenzione all'interno delle potenze del capitalismo politico rappresenta poi la prosecuzione ulteriore di questo lavoro. Mi riferisco a quell'affermazione molto schietta di Alan Greenspan del 2007, quindi la storica guida della Federal Reserve, che richiesto di un'opinione sull'orientamento della politica statunitense dopo l'elezione del 2008 risponde letteralmente non conta nulla chi sta alla Casa Bianca perché sono i mercati globali a stabilire la direzione per tutto ciò che riguarda la politica americana con l'eccezione della sicurezza nazionale. Quindi io direi che ho portato avanti questi 5-6 anni cercando di approfondire soprattutto alcuni concetti che poi sono diventati rilevanti in particolare per la competizione tra Stati Uniti e Cina, penso alle politiche industriali ma ancor di più alle sanzioni, ai controlli sull'esportazione, ai controlli sugli investimenti esteri, all'aspetto competitivo delle filiere tecnologiche, un approfondimento su questo paradosso di Greenspan, ovvero la sicurezza nazionale su cui il banchiere per eccellenza si trova un po' come l'apprendista stregone che non ha idea delle potenze degli inferi che egli ha evocato. La sicurezza nazionale è la potenza degli inferi che si evoca nel rapporto tra politica ed economia perché è il cuore dello Stato, il cuore della potenza ed è qualcosa che può essere allargata a dismisura. Quindi a me interessa particolarmente questo allargamento nel momento in cui c'è una competizione sistemica come quella tra Pecchino e Washington e poi declinare questo allargamento in alcune filiere e in alcuni contesti specifici che ci aiutano a comprendere il nostro tempo e questo è direi il legame tra le mie ricerche precedenti, questa e le successive. Ecco grazie e in questo libro appunto abbiamo ricordato il titolo di dominio del ventunesimo secolo vorrei soffermarmi un attimo sul sottotitolo cioè Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia. Ecco innanzitutto di cosa si tratta? Cos'è questa guerra invisibile di cui tu parli e è una domanda che ci viene suggerita in un qualche modo da attualità, da quello che tutti noi sappiamo. Qual è il rapporto tra guerra invisibile e guerra visibile? Quella che sempre di più diciamo diventa, si svolge, si dipana appunto davanti ai nostri occhi. Bene allora non sono, io non sono un grande titolista quindi i titoli dei miei libri in genere li faccio suggerire agli editori, ai direttori delle collane quando ci sono in questo caso, ma in questo caso ho voluto, ho scelto io il sottotitolo perché mi piaceva l'espressione la guerra invisibile perché poi la gente mi chiede che cos'è la guerra invisibile? Ah ma come mai parli di guerra? Perché c'è l'aggettivo invisibile? Quindi è una buona strategia per iniziare la conversazione, le conversazioni. Quindi allora perché è una guerra? E' una guerra poi nel libro viene spiegato nel dettaglio perché esistono strumenti di guerra economica. Quindi gli strumenti di guerra economica, io insisto, sono degli strumenti di guerra. Quindi non è che siccome non ci spariamo col fucile, allora se facciamo delle sanzioni uno verso l'altro non esiste la guerra, esiste una modalità di guerra che è la guerra economica. Quindi è importante capire come la guerra economica è portata avanti, attraverso quali tecniche, da chi eccetera. Questo per quanto riguarda la guerra, per quanto riguarda l'invisibilità. L'invisibilità ha a che fare secondo me col fatto che con un deficit di attenzione su alcune questioni rispetto alla loro visibilità. E' visibile vedere un carro armato che avanza? E' meno visibile vedere delle infrastrutture critiche come possono essere le infrastrutture energetiche, come possono essere i cavi sottomarini, gli stessi satelliti, tante infrastrutture che fanno parte della nostra vita, la rendono possibile e non le vediamo, ma per esempio il loro sabotaggio può essere un atto bellico. Quindi è importante da questo punto di vista. Poi cos'è invisibile? Beh, la microelettronica per sua natura è invisibile. Non la possiamo vedere. Possiamo vedere i mattoncini dell'elettronica su cui si fonda la nostra vita digitale, però cerco di spiegare che sono importanti. Peraltro hanno anche un legame con gli apparati bellici perché operare alcuni armamenti richiede la miniaturizzazione dell'elettronica. Peraltro l'Unione Sovietica non è stata in grado di tenere la competizione con gli Stati Uniti a un certo punto anche perché non savava miniaturizzare l'elettronica, detto in estrema sintesi. Quindi è molto importante quando ci sono delle competizioni tra alcuni attori. Un'ultima nota sull'invisibilità che poi ha a che fare con un concetto che probabilmente riprenderemo nella nostra conversazione è che io ho scritto questo libro anche per rendere visibili le storie di imprese, imprenditori, ricercatori che sono centrali nel nostro mondo e che sono relativamente ignoti. Maurice Chang, il fondatore di TSMC, l'azienda dei Paesi Bassi e SML. Potrei continuare molto a lungo. ovviamente le campioni dell'auto elettrica in Cina, dall'azienda di batterie CATL, a seconda di come la vogliamo pronunciare BYD. Ci sono tanti campioni tecnologici e tante storie che sono invisibili perché noi ci occupiamo di altre cose, non ci occupiamo di queste cose che a mio avviso invece sono importantissime e quindi su questo ho cercato di porre l'attenzione attraverso il mio lavoro. Ecco Grazie, tu hai menzionato appunto la figura di Maurice Chang che è uno dei protagonisti appunto del tuo libro. Maurice Chang è una figura di cui si dice nel libro che è uno dei protagonisti del secolo in cui stiamo vivendo, ma che al tempo stesso è una figura relativamente poco nota al grande pubblico. E guardare, diciamo, i processi di cui parli attraverso la figura di Maurice Chang ci permette anche di avere una prospettiva diversa sulla globalizzazione che viene spesso vista come un fenomeno un po' diciamo etereo, astratto, mentre invece guardare una figura come quella di Maurice Chang ci permette di vedere anche la materialità di determinati processi, la costruzione di catene del valore che sono a sua volta una condizione di possibilità appunto di quel processo che chiamiamo globalizzazione. Ecco, puoi spiegarci in che senso? Alla storia di Maurice Chang secondo me è particolarmente interessante, invito tutti ad approfondirla, non so, magari alcune delle persone che ci ascoltano conosceranno Gianni Agnelli e il cosa conta Gianni Agnelli nella storia recente dell'umanità rispetto a Maurice Chang? Zero. Gianni Agnelli, uno che ha ereditato un'azienda, era una persona sicuramente elegante e di stile nel rapporto tra Italia e Stati Uniti, parlava di calcio, ma che innovazioni ha generato? Nulla, nulla. Quindi non occupatevi mai più di Gianni Agnelli e pensate solo a Maurice Chang. Perché dovete pensare a Maurice Chang? Perché questa vita, la vita di questa persona nata nel 1931, e oggi, aprile del 2023, ancora vivo e attivo, ci racconta la storia della globalizzazione. Appunto, nasce tra l'ora Cina nel 1931, la lascia nel momento in cui il partito comunista cinese ha vinto la guerra civile, va a studiare negli Stati Uniti e soprattutto va a lavorare negli Stati Uniti nella nascente industria dei semiconduttori, conduttori, lavora per decenni in un'azienda che si chiama Texas Instruments. Poi negli anni 50 viene chiamato dal governo di Taiwan. Il governo di Taiwan ha un'idea. Il governo di Taiwan pensa. Siccome c'è stata l'apertura di Nixon nei confronti della Repubblica Popolare Cinese e ormai la maggior parte dei paesi del mondo non riconoscono più Taiwan, quindi Taiwan comincia ad avere questo status problematico, abbiamo anche un problema produttivo. Taiwan, assieme ad altri paesi dell'Asia orientale, ha già diventato una realtà produttiva importante, ma per beni di scarso valore, per esempio i giocattoli, era molto nota per le fabbriche delle Barbie, della Mattel. Quindi la gente che vuole andare a Taiwan pensa. Ora non faranno più le Barbie qui da noi, ma le faranno in Cina. Quindi noi cosa possiamo produrre? Spostiamoci sull'elettronica avanzata. E non è che arriva un politico e dice, beh, dobbiamo fare esattamente quest'ambito dell'elettronica avanzata, l'idea giusta ce l'ho io. L'idea che avevano questi tecnocrati di Taiwan era, chiamiamo una persona particolarmente capace, riconosciuta in questo settore, per accompagnare questo tipo di sviluppo. E quindi chiamano questo grande manager che ha un po' più di 50 anni. Ecco, in quel momento, negli anni Ottanta, morrisci anche in grado di realizzare a Taiwan una grandissima idea imprenditoriale che cambia l'industria dei semiconduttori, la separazione tra la funzione della progettazione e la funzione della produzione. Attraverso questa separazione l'Asia orientale, in particolare Taiwan, e poi la Corea del Sud diventa un luogo produttivo centrale per l'industria dei semiconduttori, facendo allo stesso tempo sviluppare una grande industria sul design, che rende possibili aziende straordinarie del nostro mondo, come Qualcomm, per esempio Nvidia, l'attuale AMD, e anche Apple nella sua funzione di progettazione. E quindi perfeziona l'azienda di Morris Chang, TSMC, azienda di cui poi lui ha una quota assolutamente piccola e risibile. L'azienda comincia con un investimento del governo di Taiwan, con altri imprenditori di Taiwan, e poi con un grande investitore estero, che Chang è in grado di convincere, Philips, è un'azienda dei Paesi Bassi, che ritorna in vari elementi della storia dei semiconduttori. L'azienda si specializza sempre di più, secondo questo modello, e ci sono momenti di difficoltà, ma anche grandi scommesse tecnologiche. Poi arriva una grande scommessa di mercato, una grande scommessa della globalizzazione di questo secolo, che è l'accordo tra TSMC ed Apple, per la fornitura dei processori degli iPhone. Quindi perché Morris Chang come simbolo della globalizzazione? Perché quello che è successo nel nostro mondo in questo secolo è che alcune delle economie più scala che sono state realizzate nella nostra storia, cioè la produzione di centinaia di milioni di smartphone, che sono prodotti con margini di profitto elevatissimi per Apple e in una filiera che coinvolge molte aziende di diversi Paesi del mondo, mettono insieme le capacità di progettazione degli Stati Uniti attraverso Apple, la capacità di produzione dei chip di Taiwan attraverso TSMC e tutto questo poi nel prodotto finito che viene assemblato, come forse sapete, nella Repubblica Popolare Cinese attraverso il lavoro di centinaia di migliaia di persone che lavorano per un'altra azienda di Taiwan che si chiama Foxconn, quindi questo triangolo che consente dei vantaggi economici enormi, delle economie di scala gigantesche, ma che poi pone dei problemi politici, pone il problema politico dello status di Apple nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che la Cina sia così importante per queste economie di scala che a un certo punto diventa una leva da parte del Partito Comunista Cinese, per esempio per chiedere ad Apple di scegliere aziende cinesi come fornitori all'interno di questa filiera estremamente importante e quindi un'opportunità per la Repubblica Popolare Cinese di perseguire un obiettivo strategico importantissimo, scalare il livello all'interno della catena del valore dei semiconduttori e dei suoi vari segmenti, promuovendo delle aziende nazionali che vanno a servire un mercato sempre più grande per diventare più rilevanti. In questo modo gli interessi economici cozzano con gli aspetti politici e geopolitici e anche Maurice Chang deve affrontare questo tema sempre di più nel libro racconto come cambiano le questioni dal 2015-2016 fino al 2018-2019 quando siccome questo modello di business di TSMC che vi ho descritto si basa sul fatto che c'è un cliente che progetta dei chip che ti chiede di produrre dal loro punto di vista chi sia questo cliente in che paese sia non è un problema anzi è importante anche se sei di Taiwan avvicinarti al mercato cinese perché nel mercato cinese ci saranno sempre più di questi clienti ma quando uno di questi clienti si chiama iSilicon a un certo punto ovvero la divisione di progettazione di chip di Huawei questo diviene un problema politico e quindi c'è un pesante intervetto del governo degli Stati Uniti che porta, pensate alla, praticamente alla polverizzazione del giro d'affari per TSMC generato da Huawei parliamo di miliardi di dollari quindi la potenza della storia di Maurice Chang è questa innanzitutto una storia imprenditoriale incredibile con una personalità straordinaria un manager anche spietato peraltro come sono spesso alcuni grandi manager che è voluto tornare a guidare direttamente la sua azienda a un certo punto a circa 78 anni proprio per fare questo straordinario accordo con Apple poi ora si è ritirato ma continua a parlare ad essere la figura di riferimento di questa industria e poi dei vincoli politici che non sono previsti nemmeno dai grandi imprenditori ma che si inseriscono nel loro modo di operare e di guardare fino a far pronunciare qualche anno fa a Maurice Chang in una conferenza una bellissima frase in cui si rivolge metaforicamente a Thomas Friedman l'autore del famoso libro Il mondo è piatto e gli diceva well Tom the world is not flat anymore beh Tom ormai il mondo non è più piatto e quindi è come se avesse un'autocoscienza del riconoscimento di questi cambiamenti della globalizzazione ecco su questo mondo non piatto sulle implicazioni di questi processi torneremo più avanti e abbiamo parlato in un qualche modo di questo concetto della materialità della tecnologia che è uno diciamo dei concetti che percorre il tuo libro ecco ci sono altri tre idee su cui tu insisti che sono diciamo la confusione degli orologi la sicurezza nazionale e i costi del mondo diviso puoi spiegarci brevemente cosa significano queste espressioni partirei molto brevemente dalla sicurezza nazionale la sicurezza nazionale è un concetto ambiguo tipico della sovranità e che può essere allargato che cos'è la sicurezza nazionale la sicurezza nazionale può avere a che fare con l'intelligence la sicurezza nazionale può avere a che fare con la capacità militare di difesa di un paese ma tutti questi concetti sono un po' terremotati dallo sviluppo tecnologico e digitale che allarga la loro potenzialità di intervento quindi dobbiamo tenere conto di questo aspetto la confusione degli orologi ci aiuta secondo me a guardare l'interdipendenza in termini più realistici sì noi siamo interdipendenti abbiamo a che fare con fenomeni che ci toccano ma non ci toccano allo stesso modo non è vero che dei paesi che si trovano in diverse latitudini o a dei diversi livelli di sviluppo sono toccati allo stesso modo da un fenomeno c'è sempre un modo di ricevere gli eventi anche gli eventi globali che è confuso rispetto a una supposta unità dobbiamo aver presente questo aspetto i costi di un mondo diviso pensiamo al discorso molto frequente oggi sulla reindustrializzazione occidentale e anche tutti i diversi modi con cui lo chiamiamo reshoring frenchoring per esempio riportare a casa delle industrie che hanno trovato nelle grandi economie di scale nelle condizioni di mercato dell'asia orientale le migliori condizioni di competitività ok noi vogliamo fare questo e il come si fa si fa attraverso una leva fiscale quindi per esempio dei sussidi che i paesi occidentali devono mettere in campo rispetto ad alcune condizioni che sono presenti in altre aree del mondo quindi bisogna pagare questa cosa a un costo quindi per esempio dei paesi che hanno una popolazione anziana e quindi certe spese sociali devono decidere se e come bilanciare quelle spese sociali con queste nuove spese per le politiche industriali hanno bisogno delle dinamiche di formazione di talenti per esempio la presenza di ingegneri la presenza di operai specializzati e sono dei temi badate su cui si concentrano tante delle osservazioni delle grandi imprese dell'Asia orientale di questi giganti che caratterizzano il nostro mondo come TSMC di cui vi ho parlato prima ma anche Samsung in relazione alla loro capacità di operare in paesi appunto come Taiwan o la Corea del Sud o dover aprire delle fabbriche in altri luoghi quindi vogliamo dividere il mondo per ragioni di sicurezza nazionale bene dobbiamo essere chiari con noi stessi e bisogna essere consapevoli del fatto che questo processo avrà dei costi oppure non vogliamo dividere il mondo e magari le implicazioni possono essere che nelle nostre strade troveremo le automobili della cinese BYD e che non ci saranno più le automobili delle aziende automobiliste europee che hanno preferito pagare i dividendi agli azionisti invece di investire nell'elettronica o in nuove tecnologie quindi io sono contrario a una visione del mondo e dei processi globali dove non c'è chiarezza sul fatto che le scelte comportano dei costi quindi è importante aumentare la consapevolezza su questo fatto che può essere anche un fatto scomodo drammatico abbiamo parlato di crisi della globalizzazione o quantomeno della globalizzazione come l'abbiamo conosciuta in questo quadro sicuramente la pandemia ha giocato un ruolo ma forse più come accelerazione di processi che erano già presenti che non come diciamo eruzione di un elemento radicalmente nuovo ecco spesso questo insieme di processi sono stati letti alla luce dell'idea di un ritorno dello stato del ritorno di un interventismo dello stato in economia un nuovo protagonismo una nuova capacità di pianificazione ecco nel tuo libro sei abbastanza critico nei confronti di questa idea per quali ragioni? perché parlare di ritorno dello stato in modo semplice e superficiale a mio avviso devo dire che io mi sono occupato molto a lungo dei rapporti tra stato e mercato le politiche industriali insomma mi hanno sempre interessato mi è sempre interessato la vicenda dell'impresa pubblica in Italia le sue storie quella di Enrico Mattei soprattutto che ho approfondito fino alla geografia che rivendico la storia alcune storie di declino italiano come quella di Telecom Italia che ho cercato di approfondire in diversi contesti quindi non è che io sto lì a parlare contro lo stato assolutamente non è quello il mio fine il mio fine è capire quando parliamo di alcune filiere da cosa deriva il vantaggio competitivo prendiamo la filiera dei semiconduttori si tratta di uno straordinario mercato quindi queste aziende poi devono vendere a dei clienti che possono essere le aziende di automobili sono tantissimo chi produce degli smartphone naturalmente i super computer l'intelligenza artificiale i clienti industriali di tutto dove c'è anche un piccolissimo segmento che è quello della difesa veramente piccolissimo inferiore all'1% anche se sicuramente importante ora quindi lo stato può essere un acquirente di ultima istanza di 700 miliardi di semiconduttori ma guardate che non succede da nessuna parte non succede nemmeno in Cina non è che c'è il pentagono negli stati uniti che compra decine di miliardi di semiconduttori quindi quel mercato non funziona così allora quel mercato funziona in un certo modo perché è sussidiato beh in parte sì per alcuni seguenti sì per alcuni seguenti no oppure delle grandi aziende sono diventate tali perché c'è stato l'intervento dello Stato ma diciamo sono perplesso in relazione a questa filiera se andiamo nello specifico perché andiamo a vedere per esempio Intel è diventata quello che è diventata negli anni 60 70 90 perché è intervenuto lo Stato non mi sembra è l'invidia di Jensen Wang che capitalizza 600 miliardi è lì perché c'è qualcuno del governo degli Stati Uniti che l'ha spinta ma diciamo non è vero nemmeno la storia di Taiwan ve l'ho raccontata è interessante perché effettivamente ci sono delle persone che dell'apparato pubblico di Taiwan hanno avuto una grande idea hanno chiamato una persona e ne hanno detto praticamente fai tu quindi c'è stato questo modello in Corea poi è un altro modello la storia più importante dello sviluppo del settore in Europa che è quella dell'azienda dei Paesi Bassi e ISML è un'azienda privata dove racconto nel dettaglio la storia di questa azienda e il ruolo degli investimenti pubblici è minoritario nella storia di questa azienda ma sono importanti le autorizzazioni di sicurezza nazionale date negli Stati Uniti soprattutto tra la fine dello scorso secolo e l'inizio di questo secolo quindi io faccio questo discorso perché ho paura che le persone credano di comprendere i fenomeni globali dicendo ah vabbè arriva lo Stato e riesce a fare tutto oppure fa tutto il mercato e non dobbiamo preoccuparci di altro no dobbiamo imparare a fare un discorso un po' più approfondito un discorso dove sicuramente la sicurezza nazionale anche come spauracchio a volte oppure come argomento ben radicato ha un ruolo importante e così avere una visione un po' più ampia a mio avviso delle dinamiche globali e anche del ruolo dello Stato e credo che gli Stati abbiano già un ruolo e questo sarà sempre più importante nei prossimi anni di comprensione per quanto possibile di queste filiere di alcune filiere estremamente complesse che non possono essere rappresentate dicendo c'è la transizione digitale e la transizione energetica come se fossero dei fenomeni che compaiono solo perché li menzioniamo questi fenomeni e queste trasformazioni della società sono delle filiere che comprendono migliaia decine di migliaia di aziende decine di aziende importanti o leader che i vari Stati devono in qualche modo conoscere devono conoscere questi processi quindi questo ruolo di conoscenza delle filiere come si dice di mappatura delle supply chain secondo me è un ruolo importantissimo per le capacità dello Stato un modo in cui gli Stati e le istituzioni effettivamente agiscono è quello delle sanzioni appunto e al tema diciamo delle sanzioni e del sanzionismo è dedicata una notevole attenzione all'interno del tuo libro ecco qual è l'importanza delle sanzioni da un punto di vista storico e anche all'interno dello scontro attuale tra Stati Uniti e Cina le sanzioni o meglio il sistema che io chiamo sanzionesmo quindi questo viluppo che tiene insieme alcune politiche industriali violente le sanzioni finanziarie il controllo e lo scrutinio degli investimenti esteri e i controlli sulle esportazioni che sono la cosa più importante tutto questo insieme è centrale per la comprensione degli Stati Uniti quindi io dico non possiamo comprendere la principale potenza mondiale e la sua storia novecentesca se non comprendiamo questi strumenti la loro storia la loro storia iniziale per esempio c'è un bellissimo libro di Nicholas Mother che ho cercato senza successo anche di farlo tradurre in italiano che si chiama The Economic Weapon l'arma economica quindi racconta come si sviluppa l'arma economica delle sanzioni tra le due guerre mondiali tra la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale ci sono pagine importanti anche dedicate alle sanzioni verso l'Italia dell'epoca quindi un libro importantissimo quello che bisogna comprendere è che gli Stati Uniti hanno degli strumenti che sono stati approvati in genere in occasione di guerre per esempio Trading with the Enemy Act durante la prima guerra mondiale e Defense Production Act del 1950 per la guerra di Corea che poi rimangono in vigore in tempo di pace e quindi vengono utilizzati non solo per scopi bellici ma per rispondere a emergenze o a questioni di sicurezza nazionale quindi su quella base giuridica poi si può fare diciamo praticamente di tutto per tagliare con l'accetta il contesto e nel nostro tempo l'esempio più interessante che è uscito quando il mio libro stava già andando in stampa sono i controlli sulle esportazioni sui semiconduttori del 7 ottobre 2022 quindi come funzionano oggi i controlli sulle esportazioni a me sembrano particolarmente interessanti perché sono una sorta di rovesciamento della globalizzazione della sua interdipendenza perché la usano i controlli sulle esportazioni tradizionalmente erano legati al fatto che per la vendita di alcuni componenti militari un'impresa militare radicata in uno stato prima di vendere quei componenti a un altro stato deve chiedere l'autorizzazione al proprio governo ora per questo fenomeno di allargamento della sicurezza nazionale di cui abbiamo parlato in precedenza che cosa notiamo che questo stesso potere è utilizzato verso le aziende statunitensi per cercare di ottenere degli obiettivi politici come il rallentamento della crescita tecnologica cinese o la riduzione delle possibilità di collaborazione tra l'industria civile cinese e l'esercito popolare di liberazione quindi gli apparati militari del partito comunista cinese questo come si ottiene per esempio visto che ci troviamo in presenza di alcune filiere globali c'è una fab ci sono delle fabbriche a Taiwan ma mica nelle fabbriche di Taiwan c'è solo roba fatta Taiwan la fabbrica di Taiwan da 20 miliardi di dollari può funzionare solo perché da un lato perché ci sono clienti principalmente clienti statunitensi quelli che progettano i chip e vogliono che siano prodotti ma poi perché al loro interno ci sono dei macchinari e quei macchinari vengono prodotti per esempio principalmente negli Stati Uniti nei paesi bassi e in Giappone ma poi con il concorso di altri paesi quindi che cosa fanno gli Stati Uniti nel momento in cui vogliono colpire in questo caso la nuova fabbrica Taiwan ma una fabbrica cinese o le capacità di un'industria cinese pongono dei limiti alle esportazioni di alcune aziende statunitensi che fanno parte di questa filiera quindi c'è una filiera dove ci sono alcuni nodi alcuni diciamo colli di bottiglia aziendali che una volta che gli Stati Uniti non hanno il consenso all'esportazione di quel prodotto specifico di fatto interrompono l'accesso e il naturale funzionamento della filiera quindi per questo sono cose importanti anche perché poi creano un incentivo nei confronti della Cina perché la prospettiva della Cina allora quale diventa io devo cercare di fare a meno di questi prodotti di queste aziende statunitense o della sfera statunitense quindi quindi ho ancora più incentivi affinché io faccia di tutto per sostituire queste aziende con delle aziende nazionali questo processo è ancora in corso e finora la Cina non è riuscita a raggiungere questi risultati quindi per me questo è così interessante anche perché poi sono filosofo del diritto di formazione amo diciamo il fatto che ci siano degli strumenti giuridici che grondano di temi filosofici di temi politici che consentono l'intervento dell'economia quindi mi piace pure che esista questi fogli iper burocratici abbastanza incomprensibili di cento pagine e poi hanno questo potere così grande di intervento nel mondo reale e nella sua struttura tecnologica mi fa anche divertire questo fatto che l'innovazione poi si può trovare imprigionata da degli strumenti giuridici di un certo tipo ecco grazie per concludere la nostra conversazione diciamo una domanda che ha a che fare con un aspetto che si nota appunto leggendo il tuo libro ma non solo abbiamo parlato della figura di moris chang ma in generale diciamo c'è un'attenzione appunto alle biografie alle vicende ai percorsi individuali e poi agli effetti che questi percorsi possono portare all'interno dello sviluppo storico delle traiettorie che poi i paesi assumono al tempo stesso c'è anche ovviamente una grande attenzione ha alle caratteristiche che il contesto istituzionale ed economico presenta anche nelle sue differenze il concetto di capitalismo politico indica anche diciamo questo aspetto quindi le differenze appunto che sistemi come quello americano statunitense e quello cinese presentano nelle specifiche interrelazioni che si hanno ecco quindi da questo punto di vista volevo chiederti ecco qual è il ruolo degli individui nella storia quindi qual è il peso appunto che le storie delle singole persone hanno nel determinare poi queste traiettorie rispetto diciamo a questo contesto più strutturale più ampio che le diverse varietà di capitalismo in un qualche modo presentano domanda complessa è importante senza altro allora per essere più prosaici gli individui e le storie individuali secondo me hanno un ruolo importante nei libri nel modo in cui si scrive perché poi ci diverte di più a scrivere le cose secondo me anche i lettori sono più interessati nell'occupare soprattutto quando ci si occupa di argomenti estremamente complessi e tecnici quando affronto la filiera dei semiconduttori quella delle batterie quella dei droni e il mio personalmente non ho tutta questa voglia di stare a parlare di droni mentre se parlo della vita di Selçuk Bayraktar che cerco di raccontare quindi anche nello specchio della Turchia degli ultimi anni esiste una chiave di lettura per illuminare maggiormente quella filiera e poi io credo che si per esempio nella storia delle imprese gli individui hanno un ruolo i manager un certo stile manageriale anche perché quello stile manageriale poi porta ad adottare dei rapporti con la forza dal lavoro degli investimenti più o meno in ricerca e sviluppo degli aspetti organizzativi quindi è importante capire quali connessioni si sono create scritto questo libro e quindi ho portato l'attenzione su alcune storie ma mentre lo scrivevo vi assicuro che mi sono venute in mente tantissime altre storie lo so per esempio nel capitolo su Elon Musk si parla per qualche pagina di questa figura straordinaria che c'è dentro SpaceX che è attualmente la presidente Wayne Shotwell quindi racconta un po' come è stata reclutata da Elon Musk ma ci sarebbe molto molto altro da dire sul ruolo che ha avuto questa persona anche nel portare un po' in prosa certe intuizioni del fondatore che tutti conosciamo di SpaceX oppure citavo prima Nvidia e quindi la storia di Jensen Wang che è un altro imprenditore con cui nel cammino dai videogiochi all'intelligenza artificiale si può raccontare una storia importante nel vostro tempo e poi la storia delle imprese a me interessa particolarmente alcune imprese riescono a raccontarti dei momenti di storia di un paese penso era uscito qualche anno fa un libro molto bello di un grande giornalista Steve Cole su Exxon quindi il potere americano raccontato attraverso queste imprese energetiche naturalmente l'Italia si può raccontare attraverso quella manciata di grandi imprese principalmente a partecipazione pubblica che sono rimaste a caratterizzarla ma l'Italia ha una certa idea dell'Italia si può raccontare anche attraverso delle storie delle medie imprese italiane come quelle che ci sono in questo territorio dell'Emilia Romagna che potrebbero raccontare una storia dell'Italia questi 20 anni quindi secondo me le intuizioni degli imprenditori la storia delle imprese comunque ti fa comprendere alcuni contesti la Corea del Sud la comprende attraverso Samsung certo che non ne comprendi la totalità per esempio culturale però sono degli aspetti molto importanti non possiamo pensare alla Corea del Sud descrivendo solo la sua struttura geografica il conflitto potenziale aperto questi aspetti la sua popolazione le sue dinamiche questi aspetti strutturali ma comunque che ci sia quell'azienda con quelle caratteristiche da cui peraltro dipende praticamente il 20% del prodotto interno lordo di quel paese è qualcosa di interessante qualcosa che vale la pena di raccontare poi ci sono diversi stili manageriali ci sono diciamo per esempio gli imprenditori o gestori di aziende molto concentrati su loro stessi ci sono anche alcune aziende dove le figure centrali sono più difficili da intuire se leggete l'ultimo capitolo del mio libro sull'azienda dei paesi bassi dei macchinari lì quasi non ci sono le singole personalità quindi è come se l'identità dell'azienda fosse più grande di queste singole personalità tra ricercatori e manager quindi bisogna sempre moderare quell'istinto che carlile chiamava dei grandi uomini da cui è fatta la storia ma gli uomini che siano piccoli o grandi e le donne naturalmente vale la pena di raccontarle per comprendere un'epoca a mio avviso grazie Alessandro e credo che anche da questa conversazione sia risultato come seguendo appunto questo filo complesso articolato che si dipana in maniera estremamente ricca per tutto il mondo appunto delle filiere di una tecnologia cruciale per il nostro tempo come i semiconduttori si possa inseguire molti aspetti cruciali per lo sviluppo dei tempi in cui viviamo quindi io vi invito a leggere il libro Il dominio del ventunesimo secolo e mi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa puntata e vi do appuntamento al prossimo video dei dialoghi di Pandora rivista grazie per aver guardato questo video se volete approfondire questo ed altri temi oltre ad iscrivervi al canale potete abbonarvi alla versione cartacea di Pandora rivista tre uscite l'anno con un argomento diverso ogni volta per capire più in profondità le grandi trasformazioni del nostro tempo grazie a tutti